ciao bimbi oggi voglio preparare insieme a voi la pasta modellabile di talco quello che ci serve del burro talco della colla vinilica dell'olio essenziale della profilazione che vi piace più degli stampini in silicone una ciotola e un cucchiaino vediamo come fare inizio mettendo all'interno della nostra ciotola il burro talco io ho messo 4 cucchiai di burro talco ed inizio ad aggiungerci la colla gradualmente non c'è una proporzione esatta da seguire tutto dipende da quanto volete riprodurre di pasta modellabile se ne volete fare tanta vi posso dare un'indicazione di 100 grammi di burro talco e due cucchiai di colla vinilica ed inizio a mescolare a questo punto vado ad aggiungerci qualche goccia di olio essenziale e continuo a mescolare il composto non deve risultare appiccicoso mescoliamo un pochino con il cucchiaio dopo di che potremo utilizzare le mani una volta ottenuta la nostra pasta di questa consistenza non deve essere ripeto troppo appiccicosa altrimenti andata ad aggiungere del burro talco andiamo a prenderne qualche pezzettino e lo mettiamo all'interno dei nostri stampini una volta riempiti i nostri stampini non ci rimane che aspettare due o tre giorni che secchino dopodiché possiamo estrarli una volta asciutto andrò a estrarlo dal mio stampino ed ecco qui pronti i miei profumo biancheria